Appuntamento con il talk show di Enzo Coletta Cronaca, attualità, cultura, spettacolo, grandi eventi Appuntamento con la televisione ragionata Buonasera, benvenuti al talk show di Enzo Coletta Grazie, buonasera Torna Paese che va, ma prima di svelare chi sono gli ospiti e di quale paese si tratti Linea alla nostra Simona Renzetti Buonasera Simona e benvenuta anche a te Buonasera Enzo, buonasera ai numerosissimi telespettatori che ci seguono la casa E anche numerosissimi ospiti che questa sera interverranno per meglio raccontare il paese di turno Credo che sei in buona compagnia, ci sono tantissimi ospiti questa sera Ricordiamo subito le frequenze di 1SAT e salutiamo una persona in particolare Che è un saluto a cui io tengo particolarmente Signor Tommaso Trisolini che ci segue da Parigi, al quale facciamo un applauso Signor Tommaso Non posso dirle, signor Tommaso, da chi le viene tributato questo applauso perché non posso svelare il paese Lei già sa, lo saprà tra poco e sarà davvero molto contento Prego Simona Bene, appunto stavi dicendo prima gli orari, li diciamo adesso? Sì, possiamo dire gli orari Perfetto, il martedì su ATV7 in prima serata alle 20.40 e il mercoledì alle 7.30 Invece su 1SAT canale satellitare il sabato alle 21 e la domenica alle 16.05 Il canale è a sempre 862 Bene, prima di iniziare ringraziamo lo sponsor ufficiale famosissimo Ars, agenzia regionale dei servizi per lo sviluppo agricolo qui in Abruzzo Ma questa sera ringraziamo anche un altro sponsor, la Farge Jesse Prego la regia a dare lo spot Adesso andrà lo spot la Farge Jesse del gruppo La Farge Derivanti da lavorazione industriale aventi come materie prime la carta riciclata, il gesso naturale di cava, l'acqua e l'acciaio I componenti del sistema non sono nocivi alla salute sia in lavorazione che in applicazione Il gruppo La Farge di cui la Farge Jesse è parte è leader mondiale dei materiali da costruzione e partner di una delle maggiori associazioni ambientaliste internazionali Grazie Simona, io vorrei ringraziare particolarmente il dottor Giovanni Barcaro che è il direttore della Farge Jesse Le cui sedi sono, lo puoi ricordare tu? Sì, le sedi sono tutte e due in Abruzzo, a Corfinio e Torre dei Passeri Inoltre il motto della La Farge, la Farge Jesse, i vantaggi secondo legambiente Benissimo, allora cominciamo subito con la presentazione dei nostri ospiti Questa sera per dare spazio e visibilità ed un adeguato rilievo a progetti e attività socioculturali del paese ospite Saremo molto sintetici nella presentazione dei nostri ospiti Ma subito lasciatemi dare il benvenuto al sindaco di Abbateggio in provincia di Pescara Antonio Di Marco Buonasera sindaco Grazie a voi Grazie a voi Notevole compattezza, entusiasmo e partecipazione in questo evento Perché per noi è un evento insomma Cominciamo subito a dire che è nato nel 70 ed è laureando in economia e commercio Le principali aree di specializzazione in cui opera sono la contabilità ed amministrazione Turismo rurale, associazionismo turistico È stato socio della Proloco dal 90 e presidente dal 2004 Facendola diventare punto di riferimento a livello regionale e nazionale Nel 98 progette promuove il premio letterario Maiella tra i cinque più importanti in Abruzzo Nel 2000 concorre a presentare il progetto per la manifestazione di interesse Montagna Madre È referente per la provincia di Pescara per il progetto Sapori e Sapere Per la promozione turistica del territorio e valorizzando i prodotti di nicchia Ideatore e promotore di numerosi convegni e seminari come Sulle vie del Farro e Anno internazionale dell'acqua Ed altri per l'imprenditorialità giovanile e per l'integrazione sociale Questo è in breve quello che è e che fa il sindaco di Abateggio Antonio Di Marco Grazie di voi È nata ad Abateggio nel 63 laureata Ho visto il sindaco un po' sorpreso perché mi aveva detto Non diciamo tutte le cose che io faccio Va bene così Dice ma come eravamo d'accordo Ma comunque il talk show caro sindaco si presta quindi a dare notizie sull'ospite E quindi a diconografarlo e quindi noi lo facciamo tranquillamente Allora è nata da Abateggio nel 63 laureata in lingua e letteratura straniere Ha conseguito vari attestati nel settore della didattica e dell'amministrazione Dal 98 è componente del direttivo della locale Proloquo E dal 27 aprile ha assunto l'incarico di presidente Ricevendo il testimone dal sindaco Come lui è animata da grandi entusiasmi Ve la presento è la dottoressa Enza Di Marco Una bella responsabilità presidente Un bel testimone Una bella eredità Una bella eredità Benissimo Ho detto tutto bene Sì sì tutto a posto Posso andare avanti La ringrazio È nato a Chieti nel 71 e dopo aver frequentato il seminario Nel 98 viene nominato presbitero per 5 anni è stato vicario cooperatore Nel 2002 assistente ecclesiastico della Gesci Dal 2002 la CEI abruzzese molisana gli conferisce l'incarico di assistente regionale a Gesci E dal 29 settembre 2003 è il nuovo parroco di Rocca, Morice e Abateggio Ve lo presento è Don Gilberto Ruzzi Ultimamente Don Gilberto intanto grazie per essere qui Don Gilberto Grazie a lei So che ha tanto ringraziato il sindaco Tantissimo In questa avventura televisiva In questo evento dobbiamo dire E poi anche perché ci vedranno tante persone 70.000 sul terrestre Non smetto mai di ricordarlo perché per noi è un grosso vanto E poi andiamo sul satellite e quindi ci vedranno chissà quante persone Lei è stato nominato dall'arcivescovo Forte Del nuovo arcivescovo che mi ha promesso di venire Sì che mi ha promesso di venire in televisione Se non viene ospite non lo saluterò più Intanto lo saluto anche questa volta È stato nominato che cosa ultimamente? Sono non nominato ma eletto Membro del consiglio presbiterale Cooperatore anche dell'equipe diocesana Pastorale giovanile Cioè di che cosa vi occupate praticamente? Dell'animazione ecco della pastorale con i giovani Per la diocese sul territorio della diocese di Chietivasto Quindi attività, promozione di catechesi, di incontri Anche la promozione di quella che sarà la GMG del 2005 a Colonia Quindi vi intratterrete molto con i giovani? Abbastanza C'è un'esperienza già con la GESCI che continua E' certo, la GESCI nasce proprio con indirizzo proprio giovanile E' certo Bene, grazie Don Gilberto Andiamo avanti Il 13 novembre del 94 viene inaugurato ad Abbateggio Il monumento ai caduti Con il desiderio di ricordare ed onorare Tutti i morti Tutti quanti sono morti in guerra Seguendo la via dell'onore e della virtù Noi questa sera abbiamo, con tanto desiderio Abbiamo voluto ricordare, vogliamo ricordare Un figlio di Abbateggio caduto nella battaglia di El Alamein La medaglia d'argento al valore militare Il sottotenente della seconda batteria gruppo Semovente Che prima dell'ultimo assalto si beffò della morte E lo disse anche al suo comandante Ricorderemo questo eroe con la presenza di suo fratello Enrico Breda Il signore Enrico è nato ad Abbateggio nel 32 E' residente a Turri Valignani Quanto mi sono sentito, devo dire una cosa Quanto mi sono sentito con il signore Enrico Mi ha colpito la difficoltà di parlare di suo fratello Chiunque mi avrebbe detto Sa mio fratello è un eroe, eccetera, eccetera Invece lui mi ha detto con pudore e timidezza E se vogliamo anche con umiltà Che poi dei grandi Mi ha semplicemente detto che posso dire Che posso aggiungere a quello che lui è stato E che ha rappresentato Con il suo gesto di scagliarsi contro il nemico Con grande coraggio e dignità Tenteremo poi, signore Enrico, di ricordarlo Quando era in vita Quello che lei ricorda, insomma, perché eravate giovanissimi Non molto perché Quanto partì ero un ragazzino Avevo soltanto 8 anni Certo Ricordo La prima volta che è tornata ufficiale Può parlare un po' più forte La prima volta che è tornata ufficiale Ecco, l'orgoglio dei genitori Per questo figliolo E l'apprensione per il fatto che Era stato destinato al fronte russo Invece poi Ci fu un cambio di destinazione C'è stato un cambio di destinazione E andò in Africa Sì, prese la stelletta Sotto tenente di compagnia Poi andò in Africa in Egitto E in quel maledetto deserto Poi comunque Ha lasciato Ne parleremo, ne parleremo Perché ho avuto anche il libretto Il volume scritto appunto Da Suez Un libro che ho trovato per caso Sì, questo libro? Sì Sì Ah, batterie e semoventi alzo zero Quelli di El Alamein Di Davide Beretta Facciamo vedere anche il libro Davide Beretta è stato il suo comandante È proprio lui che ha testimoniato Sì Dell'eroicità, no? Sì Di suo fratello Sì Che si beffò Dice si beffò della morte Sì Quello che è scritto Incitando gli altri Andando avanti Contro il nemico Grazie La ringrazio intanto Allora Il prossimo ospite è nato ad Abbateggio Nel 61 Lavoriato in ingegneria civile Dopo il servizio militare Presso l'OM di Chiedi Ospedale militare Va a fare il consulente Per diversi enti pubblici È stato funzionario Della provincia di Pescara È stato consigliere comunale Prima di maggioranza Poi di opposizione Oggi è assessore ai lavori pubblici È responsabile del servizio tecnico Del comune di Abbateggio Da sempre si è occupato Di associazionismo locale Grande appassionato di musica Raggiungendo un buon livello Con l'organo classico Infatti da oltre 25 anni Tenta di farlo acquistare A Don Gilberto Un organo Ma non ci riesce Ve lo presento Lui comunque è sempre L'organista Della chiesa parrocchiale Di San Lorenzo Appassionato di storia E tradizioni locali È l'ingegner Gabriele Di Pierdomenico Grazie Grazie ingegnere Anche a lei Per essere qui Ce la farà Per acquistare Questo organo Speriamo Che lei si è stufato De portassero ogni volta Da casa No abbiamo Quello parrocchiale Soltanto che è un vecchio Armonium Del 1940 45 E un pezzo Dice Don Gilberto E un pezzo E un pezzo di storia Ecco Non possiamo privarci Sì Don Gilberto Chi dovrebbe Ho capito Quello tenetelo lì Però Dato che lui Su 15 anni Che studia 25 anni Vorrebbe appunto Cimentarsi Con un organo Chi dovrebbe intervenire Per acquistare Qualcuno Ma interferrà Interferrà qualcuno Non c'è Solo la divina provvidenza No no Qualche volta Passa per vie Molto umane La divina provvidenza Benissimo Benissimo Allora L'ingegnere Ha scritto anche Un libro Il Catasto Unciario Di Abbateggio Dall'anno 1700 Dall'anno 1743 Sì Ah è semplicemente Del 1743 Sì Sia di fabbricati Che di terreno Il Catasto Unciario Invece Il primo Catasto Che è stato fatto Nel regno Di Napoli Con l'avvento Di Carlo III Di Borbone Che voleva dare Un riordino Alle finanze Soprattutto Del regno Quindi ordino a tutti i comuni Che allora non si chiamavano comuni Ma si chiamano università Ordino a tutte le università Di compilare Questo inventario Ho capito Che sostanzialmente Era costituito Dall'elenco Di tutte le famiglie Con le proprietà Di ogni Nucleo familiare Sì Quindi era un inventario Fu l'inizio Un tentativo di riordino Appunto Delle proprietà E poi Si è sviluppato Con il Catasto Di oggi Poi successivamente Intervennero Altri Catastri Lei È in corso Cura La stesura Anche di un altro libro Appena avrà il tempo Lo farà uscire Insieme all'altro Speriamo Perché questo Perché voglio dire Sul Catasto Giari è pronto Però ancora non Si riesce A pubblicarlo Su quale argomento L'altro E sempre Riguarda sempre Abbateggio Per un periodo storico Ben preciso Infatti Probabilmente Lo chiameremo Lo chiamerò Abbateggio Nel periodo storico Dello Stato Farnesiano Quindi parliamo Auguriamo Che possano vedere La luce Questi due volumi Speriamo Speriamo Che non si dedichi Al terzo Perché altrimenti Diventa poi difficile Trovare una tipografia Che se li accolli Tutti e tre Ma anche lo sponsor Passiamo a presentare L'altro ospite Lui è un ingegnere Giornalista Occupato presso L'Arta Che è l'Agenzia regionale Per la tutela ambientale Occupandosi di Idraulica fluviale Ha ereditato 8000 volumi Dalla nonna materna Facendo da subito Un bagno di cultura Direttore artistico Del premio di letteratura Naturalistica Parco della Maiella Dal 2000 E Carlo Spatola Maio Buonasera direttore Ringrazio direttore Per essere qui È un collega Ho detto bene 8000 volumi E' ereditato Sì Sono di famiglia Non sono tutti miei Sono indivisi Tutti i dati Sono libri Acquistati Da avidi Di varia provenienza Che sono in qualche modo Pervenuti tutti Nella stessa biblioteca In una casa Che abbiamo in Umbria E attualmente Sono comuni indivisi Tra me e mia sorella Quindi diciamo Che sono a disposizione Della famiglia Poi sono a disposizione Anche di Per ricerca Spesso Veniamo contattati Per aprire La biblioteca Lei a casa In Umbria E ad Appadeggio No? Casa in Umbria Sì Voglio dire Reggi il confronto Appadeggio Le colline Il posto Praticamente Cerchiamo in qualche modo Con l'aiuto Del sindaco E di tutte queste Persone Che ci aiutano Cerchiamo di rendere L'Abruzzo Di dare all'Abruzzo Tutte le possibilità Che hanno magari I regioni Che hanno cominciato da prima Ma che non è seconda a nessuno Quindi che può farcela tranquillamente Ero indeciso Se chiederle questa cosa Solitamente potrebbe essere Antipatica La cosa Però alla fine Può essere simpatica Il doppio cognome È un È un fatto nobiliare Spatola maio Il doppio cognome Deriva dal fatto Che Diciamo Ho degli avi Ho degli avi Che risalgono A parecchi Secoli fa Lei ha fatto la ricerca Sì Chiaramente Alcuni alberi Generologici Di famiglia Più i maio Che gli spatola E degli spatola Lo so abbastanza poco Devo dire Dei maio Invece so Una discendenza Che diciamo È documentata Sicuramente al 1200 Ho capito E poi ci sono altre Provenienza siciliana Mi sembra No i maio I maio sono Napoletani E il ramo E un ramo Si è trasferito In Abruzzo Tant'è vero Che c'è un palazzo Maio a Chieti Insomma Uno dei palazzi Più belli di Chieti Si chiama palazzo Maio Benissimo Grazie direttore Mi ha tolto Una curiosità Allora andiamo avanti Abbiamo Caro sindaco Vogliamo subito Parlare brevemente Accennare I progetti Che sono in atto Altri hanno visto La luce Grazie al suo impegno All'impegno De tutti i suoi collaboratori Intanto Abbateggio guadagna Le pagine dei giornali Abbiamo anche dei titoli Che sono apparsi I vari quotidiani Hanno parlato di questo paese Le casette di pietra Conquistano l'America Questo qui è il primo titolo Può dire delle cose C'è un grande progetto in atto Che riguarda proprio il recupero Del centro storico di Abbateggio Proprio grazie a una legge regionale La legge 13 Noi abbiamo voluto proprio Che i privati fossero Come dire I protagonisti Di questo importante momento Di valorizzazione Del borgo più antico del paese E devo ammettere Che c'è stata Una grande partecipazione Sono più di 30 Sono 33 Esattamente le istanze presentate Vagliate al momento In regione In attesa Di comunicazione ufficiale Da parte della regione Abruzzo Del finanziamento Di 250 mila euro Che noi andremo a spalmare Letteralmente Sul centro storico Una scelta questa Dettata anche Dalla necessità Di recuperare Il più possibile Le abitazioni Del centro storico E per farlo proprio Diventare anche Luogo di frequentazione turistica Perché la più grande Esigenza che oggi Noi abbiamo È quella appunto Della ricettività Quella di una volta Quella tipica Quella insomma Che vede anche Il recupero appunto Della pietra Del mattone Del legno Questo è piaciuto Tantissimo Agli americani Soprattutto Ma anche agli inglesi E ai francesi C'è un grande interesse Ecco da parte Degli americani Ma non solo Proprio perché Questi luoghi Poi si prestano Anche a essere luoghi Di vacanza Di benessere Perché di fatto Non bisogna parlare Solo di benessere Pensando Alle beauty farm O ai centri Insomma Di così Relax Che solitamente Siamo abituati A sentire Però c'è anche da dire Ecco che nei piccoli centri C'è proprio quella Sufficiente E necessaria Come dire Miscela Per fare sì Che ognuno Possa ritrovare Poi se stesso Senza avere necessità A tutti i costi Di vivere in un mondo Come dire In un luogo Comunque Molto metropolitano Anche perché voi date La possibilità Di vivere in case Dove Certo Ci sono case Dove ricordano i luoghi Dove si ricordano i luoghi Ci ricordano i luoghi Ma soprattutto Si vive proprio come un tempo Insomma Con una essenzialità Nell'arredo E nel recupero Come dicevo appunto Della materia prima Cioè che è appunto La pietra della maiella E chiaramente Sono luoghi Abbastanza particolari E esclusivi Che chi ha la fortuna Di poterci stare A volte forse Non apprezza più di tanto Ma chi invece Sceglie di farlo diventare Anche una locazione turistica O comunque Una meta turistica Quando vi arriva Non vuole più andar via Ha fatto scalpore Questo progetto Di ristrutturazione rurale Che vede appunto Il versante Della maiella Interessato Perché sono venuti Da voi Big della politica Ma anche grandi personaggi Dell'economia E della politica americana Sì Questo ha fatto scalpore Anche perché Di abbatteggio Precedentemente Non se ne parlava Come meta turistica Quindi il dato più importante Stava proprio quello Rimarcare La forte connotazione Turistica del territorio Chiaramente Il fatto che Qualche personaggio politico Abbastanza noto Anche a livello nazionale Insomma Tra questi ricordiamo Grazie a Francescato Che è stata proprio In questi giorni Di nuovo Da noi in paese Ma la stessa Rosi Bindi Ma non solo Lo stesso Dick Cinei Che praticamente È stato ospite In una di queste case Chiaramente L'ambizione nostra Adesso qual è? Quella di non farla diventare Però una meta turistica Solo d'élite Ma farla diventare Invece Una realtà Vissuta Da tutti quelli Che veramente Vogliono venire da noi Per starci bene Il più tempo possibile Anche pensando Di tornare In paese a viverci O addirittura Pensare di averla Questa località Anche come meta Come diciamo Come riferimento Principale Per la propria vita Dipende anche da voi Il target Che Dipende dal prezzo No sindaco? Sì dipende anche dal prezzo Ma dipende anche Dalla volontà Dell'amministrazione Che qui in questo caso C'è tutta Di determinare anche Una Come dire Una forma di recupero Con la tolleranza zero Come si dice In alcuni altri paesi D'Abruzzo Dove appunto Non sia più possibile Vedere però Nei centri abitati L'alluminio Oppure ancora Ancora peggio Il cemento Che praticamente Ha mortificato Queste Come dire Queste facciate Queste case Che precedentemente Erano invece in pietra I prezzi sono competitivi I prezzi sono competitivi Chiaramente Per chi Arriva da noi Arriva con una Intenzione ben precisa Quella di stare bene Quindi chiaramente Il prezzo Lo sostiene senza problemi Insomma È giusto anche che sia così Si deve anche poter apprezzare Pagando abbastanza Quello che si ottiene Bene Io passerei Dalle parole Ai fatti Abbiamo girato Preparato Una scheda Speriamo che sia Esaustiva Le immagini Sono di Amleto Re E adesso Noi ci vediamo Questa scheda Su Abbateggio Vediamola Sono le verdi colline Lo splendido paesaggio A far da cornice All'angolo di paradiso naturale Che visitiamo oggi È Abbateggio Piccolo paese Della provincia di Pescara Posto a 450 metri Sul livello del mare All'interno Del parco nazionale Della Maiella Le sue origini Sono molto antiche E sembra si possano Far risalire Verso l'anno 866 dopo Cristo Il suo nome Si dice Derivi dal nome proprio Bateius Oppure da Castrum Abateggi Iniziamo la nostra Conoscenza del paese Partendo dalla sede Del municipio Al centro del paese E passiamo poi Alla visita Della chiesa Del santo patrono San Lorenzo Martire E questa una chiesa Ad una sola navata A pianta rettangolare A pianta rettangolare Con facciata classica E portale in stile Quattrocentesco Il campanile Quadrangolare Racchiude una gradinata A chiocciola Autentico capolavoro In pietra locale È di un barocco moderno Il suo interno Con semicolonne rettangolari Con capitelli Rosoni e stucchi Opera del ticinese Pietro Francesco Canturio Nato nel 1723 Che fu in questa zona Fra il 1774 E il 1781 Per lavorare anche Nelle chiese Di Caramanico E Rocca Morice Di buona fattura È la statua Ligna del santo patrono E l'acqua santiera Del seicento Da ammirare anche Le statue Della Madonna del Carmine Della Madonna Della Dolorata E San Rocco Molto rappresentativo Il quadro raffigurante La Madonna del Rosario Dipinto nel 1774 1893 Da Ferdinando Palmerio Di Guardia Grele Percorriamo poi Una tipica via del paese Per giungere al Vuccetto Posto dove si convogliava l'acqua E dove nelle calde sere d'estate Si radunano le persone del posto Perché da questa apertura Arriva aria fresca e rigenerante Per giungere al Vuccetto Ammiriamo durante la nostra passeggiata La facciata della chiesetta Della Madonna del Carmine Di piccola fattura Tutta costruita in pietra locale Da qui nella zona sottostante Ci attende un panorama Veramente incantato E lo sguardo può spaziare Dalla Val Pescara Con i suoi numerosi paesi Alla maestosità della Maiella Saliamo ora su una collina rocciosa A breve distanza Dal centro storico del paese Dove incredibilmente Riusciamo a scorgere L'essenza delle caratteristiche naturali Della nostra regione Il Grenzasso La Maiella Qui sorge il santuario Della Madonna dell'Elcina Con la sua chiesa Ricostruita in pietra locale Dalle genti del posto Nel 1927 Ma di antica fondazione Riveste un notevole valore Storico artistico Religioso Per tutta la vallata La tradizione racconta Che un giorno Due pastorelli muti Del posto Videro su un albero Di Elce In Leccio Una signora E ai piedi Dello stesso albero Un quadro raffigurante La Madonna col bambino La Madonna chiese Che venisse costruita Una chiesa In suo onore Proprio su quel colle E operò Il primo miracolo Restituendo ai ragazzi L'uso della parola Appreso ciò La folla Corse sul posto E trovarono lì Un quadro Che fu portato Nella chiesa parrocchiale Ma per ben tre volte La mattina seguente Il quadro veniva ritrovato Ai piedi dell'albero Sul colle E da lì La decisione Di edificare la chiesa Proprio attorno A quell'albero L'edificio Nel suo stato attuale È di recente costruzione Fu infatti rifatto E ampliato Nel 1927 Dalla popolazione Sull'altare maggiore Dentro una particolare Ridicola Vi è la statua Della Madonna dell'Elcina In terracotta Tinteggiata E risale Probabilmente Nel XVI secolo Sotto l'altare Vi è situato Il tronco d'Elce Sul quale Apparve la Madonna Mentre Sul lato sinistro Dell'altare È situato Un quadro Dipinto ad olio Rappresentante La Madonna In tunica rossa In manto azzurro Con il bambino Gesù tra le braccia La sua realizzazione Può riferirsi Al secolo XVII La Madonna Dell'Elcina Viene festeggiata L'8 settembre E la sera Della vigilia Si ripete Il rito religioso Del quadro Processionale Che viene tradotto Dal santuario Alla chiesa parrocchiale A ricordo Delle traslazioni Avvenute All'epoca Dell'apparizione Scendiamo Da questa Suggestiva collina Per arrivare A godere Del panorama Che dal belvedere Di largo Celestino V Appena ottimizzato Nella struttura E nella costruzione Ha fatto diventare Questa piazza Luogo di incontro E di passeggiate In questa vicinanza Osserviamo anche Il riadattamento Della vecchia scuola Elementare Ad Ostello La popolazione Di Abbateggio È operosa E collaborativa Infatti arrivati Al monumento Ai caduti Apprendiamo Che l'opera Realizzata Dalla Proloco In collaborazione Con il comune È stato un lavoro A cui tutti gli abitanti Hanno partecipato E che tutti Contribuiscono A mantenere In ottimo stato Lasciamo ora Il centro abitato Per giungere Al sito archeologico Denominato Valle Giumentina Luogo che ha accolto L'uomo Sin dall'epoca preistorica Di notevole interesse Sono le capanne In pietra A secco Dette tolos A forma circolare E coperte a cupola Di struttura simile Ai nuraghi sardi Che venivano utilizzate Dai pastori Per il riparo notturno E la lavorazione Del formaggio E la lavorazione Realità innovativa Di quest'angolo D'Abruzzo È la realizzazione Di alloggi Di turismo rurale Vecchi casali Ormai abbandonati Sono stati restaurati Mantenendo per intero Le strutture originarie E sono stati adattati Ad accogliere i turisti Che vogliono trascorrere Periodi di vacanze E relax In posti che Come a bateggio Offrono la possibilità Di stare a contatto Con la natura E a pochi passi Dalle montagne Più belle d'Abruzzo E dal mare adriatico L'amministrazione L'amministrazione Sta curando in modo particolare Le loro ristrutturazioni Facendo seguire regole Ben precise Ai proprietari Per fare in modo Che mantengono Inalterata L'architettura originaria Del posto Riutilizzando Pietra locale Mattoni E legno La pietra Deve essere lasciata A vista Non intonacata Banditi Infissi in alluminio E materiali moderni Queste strutture Sono diventate Meta ambita Da turisti Francesi Inglesi Ed americani Attratti Dalla qualità Del restauro E dalla possibilità Di trascorrere Le vacanze In case Che testimonino La storia Dei luoghi Le stanze Di queste case Di pietra Circondate Da olmi E castagni Hanno ospitato Recentemente Big della politica E della cultura Questi luoghi Rappresentano Il luogo ideale Per completare Un libro Fare lunghe passeggiate O socializzare Con i vicini Il luogo ideale 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 Il fuoco ideale Il luogo ideale Il forte sentimento religioso Che accomuna Le genti di Abruzzo Qui si esprime Anche con la devozione A San Biagio A cui è stata edificata Un'edicola Situata nella frazione Di San Martino San Biagio è protettore della parola e si festeggia il 14 agosto con una messa celebrata proprio qui Visitiamo ora i resti dell'altare di Sant'Agata, protettrice delle donne che allattano Qui in antichità le donne per accrescere il loro latte seguivano un rito Andavano lì portando con loro del pane e del vino Lo poggiavano sull'altare durante la recita delle preghiere rivolte alla Santa Poi al ritorno dovevano offrire questo pane e questo vino, Benedetti, a tutte le persone che incontravano sulla strada La nostra giornata nella natura non termina qui Ci aspetta uno dei luoghi più suggestivi del posto, la Valle del Leio Il panorama campestre offre scenari naturali di notevole bellezza Tra boschi di querce, roverelli, ornelli, tra oliveti e vigneti E con l'alternarsi delle stagioni, i colori del paesaggio assumono sfumature indimenticabili La Valle e il letto del torrente Leio, che scorre in una profonda gola incavata nella roccia Sono immersi in un'oasi incontaminata di lussureggiante splendore Qui, quasi celate dalla vegetazione, troviamo le antiche miniere da cui estraevano l'asfalto Che fino a qualche decennio costituivano una delle più importanti risorse del paese Che fino a qualche decennio costituivo Lasciamo questo posto dove abbiamo trovato storia, cultura, tradizioni, cibi genuini Grande senso di ospitalità e sana amministrazione Ponendo a bateggio nella lista dei tanti gioielli d'Abruzzo Che compongono il nostro inestimabile tesoro Immagini mostrate in esclusiva, è la prima volta che una telecamera, vero sindaco, entra? Esattamente è la prima volta, è uno scoop questo Eh sì, certo Dobbiamo dire anche grazie all'italcemente di Scafa che ci ha consentito questa visita Questa è esclusiva, no? Questa è esclusiva Sì, è un'esclusiva e credo che sarà veramente una interessante intervista Quella che oggi stiamo facendo Perché proprio su questa valle dell'Eio Per quanto riguarda la zona di Abbateggio È in procinto di essere approvato e finanziato un progetto strategico Di recupero di tutto questo vallone che inizia proprio da Scafa Ma ne parleremo tra poco, io intanto vorrei strapparle brevemente un suo parere su questa scheda Sindaco, l'ho vista piacevolmente sorpresa mentre seguiva È quello che volevamo con qualche cosa in più che però dovremo ancora finire di costruire Per poterla poi inserire in questa immagine, però è quello che volevamo, grazie Bene, bene, allora andiamo avanti, abbiamo delle diapositive Noi ci siamo avvalsi della competenza, della consulenza dell'ingegnere di Pier Domenico Che appunto ci ha condotti e ha indicato appunto dei particolari Che io vorrei adesso discutere con lei Facciamo vedere queste immagini Abbiamo delle diapositive, ecco questo qui Parliamo di questa chiesa Della Madonna del Carmine Del Carmine Perché c'è una scritta che nonostante sia la Madonna del Carmine Che ricorda Sant'Antonio Sul portale, sì Sì Nel luogo del portale c'è una scritta C'è un motivo storico? Non ho trovato documenti che giustificano, diciamo, almeno per iscritto questa denominazione La chiesa della Madonna del Carmine era già intestata alla Madonna del Carmine Già ai primi del Settecento, ma nel Catastonciario già si parla della chiesa della Madonna del Carmine Non sappiamo se quella scritta è stata, diciamo, inserita negli anni successivi Durante il corso di ristrutturazione, se era intenzione della popolazione Intestare quella chiesa a Sant'Antonio Visto che ad Abateggio c'è comunque una tradizione forte su Sant'Antonio Abate E anche su Sant'Antonio di Padua Stiamo vedendo adesso la chiesa della Madonna del Cina C'è tutta una storia su questa chiesa, su questa ricostruzione Sì, la chiesa come la vediamo nello stato attuale è di recente costruzione Infatti fu iniziata la riedificazione nel 1926, nel 1927 fu terminata e inaugurata Purtroppo nella ricostruzione di questa nuova chiesa fu demolita la chiesa precedente Era una chiesetta piccola che però esisteva già nel 1600 Non sappiamo com'era fatto e questo ce ne dispiace un po' Vabbè, c'è un vuoto però Vediamo il largo Celestino V, anzi proprio il 18, mi sembra, o il 19 Il 18 di maggio è proprio San Celestino Ecco, avete pensato di ristrutturare questo largo? Ci sono dei motivi storici oppure prettamente di panorama? No, motivi storici no, sono prettamente panoramici Cioè, visto che è l'ingresso del paese che ha una vista panoramica eccezionale Abbiamo pensato di ristrutturare questo slargo con questo belvedere finanziato dalla provincia di Pescara E l'amministrazione comunale l'ha intestato a Celestino V Solo il motivo storico è l'intestazione a Celestino V Considerato che anche noi comunque facciamo parte del circondario dell'eremo celestiniano E quindi ci sembrava doveroso e giusto intestare la piazza a Celestino V Prima abbiamo visto un quadro della Madonna dell'Elcina, mi sembra Torniamo sul quadro perché sicuramente sarà una riproduzione C'è un quadro vero, originale Il quadro che vediamo nell'immagine è un quadro processionale Lo chiederemo meglio magari È un quadro processionale che viene tradotto in processione durante le feste padronali Questo quadro così come lo vediamo è una riproduzione di un altro quadro del Settecento Della stessa fattura che non è l'originale che la devoluzione popolare ritiene sia stato trovato ai piedi dell'albero Il quadro cosiddetto originale, tra virgolette, quello vero è custodito in luoghi sicuri Che non diremo mai Anche perché questo quadro processionale è proprio una riproduzione di un precedente quadro rubato nell'82-83 Allora in quell'occasione fu tolto dall'esposizione Quindi è esattamente così Don Gilberto Su questo quadro c'è L'ingegnere d'Ava sono esatte La riproduzione di un quadro purtroppo trafugato negli anni 80 Anche se attualmente il pezzo importante di quella chiesa non è il quadro che però è al centro del culto della devozione degli abategiani Alla madre di Dio dell'Elcina Ma la statua che c'è sull'altare maggiore, una statua che va datata tra il XVI e il XVII secolo E la tipica, no meglio, tra il XV e il XVI secolo Una statua, una tipica madonna abruzzese Dove la madre di Dio è rappresentata come una popolana che accurisce il bambino Tra l'altro lì nella nostra statua è in posizione supine il bambino, no? Sulle ginocchia della madre È stato inamovibile, quindi non è stata mai traslata fuori dalla chiesa Quindi probabilmente è stata realizzata e collocata lì, nello stesso luogo Sotto quell'altare c'è quello che resta dell'Elce Che la tradizione indica essere il luogo dell'apparizione È un Elce secolare Esattamente È enorme anche come dimensione No, non è grandissimo, è un tronco ormai così ridotto ai minimi termini Però è visibile E sopra c'è questa statua che è di pregiovele fattura purtroppo In uno stato di conservazione non ottimale Il peccato Il pezzo importante è quello con una piccola tela A cui faceva riferimento l'ingegnere prima Una piccola tela, sicuramente settecentesca Che raffigura in piccolo la scena dell'apparizione Ho capito Abbateggio è un luogo di forte sentimento religioso Ma soprattutto il culto mariano è molto sentito, no? Sì D'altronde il titolare della parrocchiale è San Lorenzo Martire Il diacono martire di Papacisto II Ne volevo parlare un attimo Ecco No, ma voglio dire, è molto sentito, è forte la devozione per la Madonna Sì, ecco appunto Ci sono varie madonne No, ma dico ci sono varie madonne Ecco, io volevo tornare al discorso delle madonne Sì, c'è la Madonna del Rosario Me le puoi rielencare? Eh, è stato un po' complicato ora di darle tutte Ho capito Io ho capito che lei ha pozzato Diciamo che il culto mariano è unificato in una figura della madre di Dio E basta, stop Ce ne sono I vari titoli mariani si sono presenti anche in abbateggio Il più importante per devozione volare è quello appunto della madre di Dio dell'Eccina Però spieghiamo, la Madonna è sempre la stessa È sempre la stessa No, spieghiamolo un po' per tutti perché altrimenti La Madonna è una soltanto, la madre del Signore è una soltanto È come ad una mamma qualunque come mia madre Come alle nostre mamme, diciamo, bella, cara E così alla madre di Dio diamo diversi titoli Ecco, ad abateggio i due titoli più importanti sono appunto dell'Eccina e poi del Carmine Per l'ovvio motivo delle due presenze Prendi il nome, sì Ovviamente dal posto in cui magari si è verificato un miracolo Nel caso della Madonna del Cina, a motivo di questa apparizione Nel caso della Chiesa e della devozione Alla Madonna del Carmelo Beh, questa è una diffusione che troviamo un po' in tutto l'Abruzzo Perché la devozione, il culto della Madonna del Carmine non è prerogativa di abbateggio Ma è qualcosa che è diffuso un po' dappertura O per la presenza carmelitana Beh, scende anche in Puglia Come nel caso di abbateggio Per la presenza, credo nel Seicento Di una congrega, cioè di un gruppo di laici Che si riunivano appunto sotto il patronato della Madonna del Carmelo E che in qualche modo custodivano anche la Chiesa Quindi abbiamo avuto anche questa presenza di una congregazione Magari con sacrificio erano anche scalzi Questo non lo sappiamo Ma all'epoca penso che di scarpe ce ne fossero più Poco E da qui l'ordine dei carmelitani scalzi Questo è diverso È un altro origine Senta Don Gilberto Vorrei parlare un attimo del Santo Patrono Allora intanto un martire Beh, Lorenzo martire non è nativo certamente di abbateggio Ma il diacono romano, appunto dicevo prima Era uno dei diaconi di Papa Sisto II Ma perché proprio il patrono di abbateggio? Questo non lo sappiamo Questo non sappiamo per quale motivo abbiamo intitolato la parrocchia Si perdono queste cose così importanti? Ma c'è un buco temporale di documentazione storica Che ci impedisce di fare questa ricostruzione Il perché della dedicazione a questo santo Ci sarà un motivo sicuramente Ma c'è stato sicuramente un motivo Teniamo conto che questa è zona di monasteri Potrebbe anche essere che il culto a San Lorenzo Derivi da un culto a questo martire Diffuso dai monaci benedettivi Che comunque nel circondario Certo Prolificavano Dicono che i monaci scegliessero dei posti propri adatti Dove speciali energie venivano concentrate Anche nella costruzione Ma no, io dico anche speciali No, dico energie, voglio dire anche divine Energie divine Sono luoghi un po' particolari Il genio dei monaci benedettivi È stato quello di non distruggere Se non quello che era in aperto contrasto Con la fede cristiana Quanto piuttosto riutilizzare Quanto trovavano Nel servizio si vedeva prima Quell'altare campestre Ligato a Sant'Agata Con molta probabilità lì Anticamente c'era un luogo di culto pagano Dove si svolgevano dei viti pagani della fertilità E con l'avvento del cristianesimo È stato cristianizzato e dedicato alla martire catanese Sant'Agata Molto serio Certo Invece per quanto riguarda Il discorso di San Lorenzo Martire Abbiamo detto che ricade in quale giorno? Allora Il 10 agosto È la festa liturgica Che vale per il calendario della Chiesa Universale Abbateggio Come capita anche in altre comunità In altri paesi Ha un calendario Di celebrazioni Diciamo popolari Spostato Infatti in settembre abbiamo Lo comportate di volta in volta col sindaco No, no, no Ecco C'è la fortuna che abbiamo queste feste stabili Che nessuno Sulle quali nessuno discute Quindi il 7, l'8 e il 9 di settembre Festeggiamo i patroni Certo Mentre su quel miracolo Don Gilberto cosa si sa? L'apparizione Dell'apparizione Del miracolo Dei due Che ripresi da parlare Non c'è un accertamento della Chiesa No Non abbiamo documenti storici C'è un racconto orale Che arriva praticamente fino al 700 Al 700 poi ci sono i documenti storici Che parlano della presenza della cappella Sul colle dell'Elcina E più una tradizione orale Anche i documenti storici successivi Raccolgono questa tradizione orale E c'è un racconto Attitudine di un monaco celestiniano Di Santo Spirito a Maiella Del remo di Santo Spirito Che Però siamo ancora nell'ambito del racconto Poi tramandato Che nel momento dell'apparizione Dall'alto di Santo Spirito Avrebbe visto Una luce sfolgorante Sul colle dell'Elcina E avrebbe intuito Di qualcosa di prodigioso Stava accadendo in quel posto Ma più di tanto non abbiamo Una cosa è certa Che da quel momento In quel luogo Iniziato un culto mariano In interrotto Fino ai nostri giorni E questo è quello che è importante Bene Grazie a Don Gilberto Ruzzi Allora Sentiamo la presidente della Prologo La dottoressa Enza Di Marco E voglio dire Riprendiamo dal peso Di questo incarico Che lei ha assunto Da aprile Sì da poco Da quasi un mese Ne ho eletta Sì Quali sono Allora Gli argomenti che state portando avanti I progetti Cosa state organizzando Come prologo Di apateggio Beh le manifestazioni Per collegarmi al discorso Che diceva Don Gilberto Sì perché c'è la festa del farro Che inizia proprio con C'è la festa del farro Che inizia proprio con il 10 di agosto Quindi che coincide con la data di San Lorenzo Sì Quest'anno le date sono 10-11 Sembra fatta apposta E sembra fatta apposta No ma noi cerchiamo ogni anno Di far coincidere La festa del farro Anche con il 10 agosto Quindi comunque il 10 agosto C'è come data nella festa del farro E quest'anno inizia proprio Da giorno 10 Quindi 10-11 e 12 agosto Ho capito Quindi si articola in tre giorni E questa è la tredicesima Cosa fate esattamente È la tredicesima edizione Quindi facciamo allora Praticamente vengono presentati Questi piatti tipici a base di farro Che è stata una riscoperta Di questo antico piatto Che la mia generazione Sinceramente non conosceva Ed ha imparato a conoscerlo Proprio grazie alla festa del farro Quindi se io prima non cucinavo il farro Adesso proprio grazie a questo Insomma è Ma come me tante altre persone Di conseguenza Di conseguenza ecco È stata anche una riscoperta E chissà Forse faremo anche riscoprire Qualche altro antico piatto Vedremo un po' Certo Anche perché voi avete puntato molto State puntando sulle biodiversità Esatto Sui cereali Sì esatto Quindi potrebbe essere l'idea Quella di una riscoperta Di un altro cereale Dimenticato Oppure di un altro piatto Dimenticato Per altre Per altre manifestazioni Abbiamo poi Vabbè Il premio Ma di questo forse Si parlerà più tardi Sì no Le dicevano soltanto Se può guardare lì in finestra Ah sì Perché ci sono i telespettatori Dall'altra parte Poi oltre a queste manifestazioni La Proloco si è occupata Anche di beneficenza C'è l'appuntamento annuale Con la tombolata Di fine anno Pro Unicef Sì E cui ricavato Va devoluto poi All'Unicef Inoltre Sempre per l'Unicef Ha collaborato Anche quest'anno Con l'associazione sportiva Della Top Master Di San Valentino Nella realizzazione Di un trofeo Della Maiella Che quest'anno È arrivato Alla quinta edizione Quindi insomma Si dà un po' Questo trofeo In cosa consiste? È una gara sportiva Di ragazzi Che fanno Di atleti Che fanno karate Ed è un torneo I ragazzi Fanno competizione Ma più che altro Si divertono Di tutte le fasce Di età E quest'anno Abbiamo avuto l'onore Di avere La presidente Dell'Unicef Che è venuta A premiare I ragazzi Addirittura Sì Quindi insomma Si occupa anche Si occupa anche di questo I presidenti Non mancano E' un titolo Molto usato Un po' stregati Affascinati Nonostante Don Gilberto Non voglia sentir parlare Di magia Ma è un posto magico Questo qui Me lo lasci dire In questo senso Me lo lasci dire Intendevo per quello Sì Poi Mi scusi presidente Vogliamo intanto sentire C'è la La signora Beatrice Sì Che ci dirà Buonasera 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 La nostra azienda Si occupa proprio Della produzione Della trasformazione E della vendita Di alcune specialità Dell'antica tradizione Abruzzese Tra cui il farro Il nostro cantiere È la valle Giumentina Dove facciamo Un'agricoltura Attenta alle problematiche Ambientali Dove rinunciamo Volentieri Alle concemazioni chimiche Tutto a vantaggio Del sapore E della qualità Del prodotto Il farro È un antico alimento Il farro Che coltiviamo Ad abbatteggio Appartiene alla specie Del Tritricum Dirum Di Coccum Perché non si coltiva più Il farro Il farro È un po' fastidioso È un po' particolare La lavorazione Il farro è andato Scomparendo All'incirca Verso il V e VI secolo A.C. Quando è arrivato Il grano tenero E il grano duro Appunto perché La resa Del grano tenero E del grano duro È sicuramente Superiore rispetto A quella del farro Ma soprattutto Perché non ha Bisogno Il grano A differenza del farro Della trasformazione Quindi della decorticazione Il farro Si raccoglie vestito Mentre il grano Si raccoglie Già pronto Quindi questo È stato sicuramente Un motivo Per cui Questo alimento È un po' scomparso Negli ultimi anni Alimenti di grande sapore Alimenti che prendono Dal suo nome No? I sapori di bea Dal suo nome I prodotti prendono Il mio nome Devo dire Che comunque Ma è una cosa bella Voglio dire Una cosa Sì Sicuramente sì Devo dire comunque Che Mangiare farro Significa fare anche Una scelta Di una dieta Corretta E salutare Perché comunque Ha pronto uno slogan Mangia farro Che campi Centattivo così No Ho pronto questo Mangia farro Che non fa ingrassare E quindi oggi Questo è anche Importante Grazie signora Beatrice Allora Signore Enrico Noi vogliamo Torniamo adesso Ad Antonio Abbiamo anche Una foto La vogliamo Far vedere Questa foto Torniamo un po' Eccolo qui Lo stiamo vedendo Le somiglie Non si commuova Purtroppo sì Eh ho capito Che tipo era Suo fratello Puntiglioso Forte Orgoglioso No Non direi orgoglioso Baldanzoso Questo forse sì Era Esuberante Infatti È partito volontario Non è che era stato Come tanti Magari In quel periodo Partirono Non riesce adesso A parlare Vuole riprendersi Un attimo Più che altro Non è che Mi faccia rivedere Quel volume Sabbia dei ricordi Ricordi precisi Perché Avevo soltanto Otto anni Come dicevo prima Allora come dicevamo Questo libro Parla Della Della battaglia Racconta La battaglia Della mail E l'ha scritto Davide Beretta Che era il comandante E che ho trovato Per caso Di suo fratello Come è riuscito A Macerata Alla stazione Di Macerata Ero andato A trovare Mio figlio Che era Studiava Dai salesiani E tornando A Pescara Su una bancarella Del Bancarella Io Credibile Ero appassionato Di storie recente Ho parecchi libri Appunto E comprai Questo libro E leggendo L'ho scoperto Che addirittura Era stato Dedicato Alla memoria Di Certo Di mio fratello Forse in fondo Senza neppure saperlo Ingosciamento Lei cercava Un po' Tant'è Di mettersi Sulle tracce Di suo fratello Ecco sì Avere qualche notizia In più E quindi Il destino L'ha portata Proprio quel giorno Ma avevo Trovato anche Altri libri Dove era citato Però In forma Molto ridotta Molto concisa Qui invece Poi mi sono messo In contatto Con Inizia così Questo libro Voglio dire Due cosine Poi regaleremo Proprio Alla memoria Di suo fratello Un brano Però inizia così Questo racconto È dedicato Ad una stella Dell'Orsa minore Ad una piccola stella Che immancabilmente Salutavo Durante Le lunghe notti Nel deserto egiziano È dedicato Anche ad un mio Giovane ufficiale Che prima Dell'ultimo assalto Si beffò Della morte E lo disse Al suo Comandante Questo tanto Per rendere L'idea Di Di quello Che è stata La battaglia E la La main Vogliamo Adesso Abbiamo Simona Che ci leggerà Sempre Un brano Tratto da quel libro Lì Di Beretta Prego L'ora Ascondevano Il paffuto Volto Di Bimbo Sempre Velato Da un'espressione Di ansioso Sorriso Di chi teme Di non appare Io era Audace Invece Invece Eri bravo In battaglia Portavi nel sangue Il calore Della tua terra D'Abruzzo A modo tuo Avevi un carattere Fermo Volitivo Leale Pronto agli scatti Più impensanti Sì